che statino ecco ora qui c'è dei gallettini io li prendo molto molto volentieri i galletti sono buonissimi e i funghi di ora buongiorno a tutti ragazzi sono qui con taylor buongiorno qualche fungo si è già trovato però si fa il video di introduzione ora oggi è sabato perché 17 sabato 17 si può vedere un po come la situazione iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace se il video vi piace uno nonna su youtube ha scritto che siamo la più bella coppia di funghi e del web e lui è dell'appennino penso verso parma credo è uno che fa video anche lui guardate guardate qua che meraviglia un occhio di funghi diciamo fungaci ma a mezzo a loro si nasconde un bellissimo edulis giovane di nascita perfetto io l'ho non usata giusta l'ho non usata giusta qui non ce l'ho mai trovato ma ho detto come ho visto un po' come la situazione ho detto mi fai andare a vedere lì stai stai a vedere chi c'è un bel polcino un po' vecchiotto sotto però diciamo che ci sa contenta il primo rosso della giornata un giovanetto un giovincello ma da prendere perfetto da fare un carpaccio anche se ve lo dico a vostra descrizione perché col carpaccio c'è il rischio di farselo addosso guardate belli di buono questi verri come sono gazzi che spettacolo gira e rigira qualcosa si trova ma che bellini belli eh bei noccolotti bei noccolotti trovassi una uvata divinta a questa maniera sarebbe fatta male insomma sentimo il suono è buono vai galletti e funghi galletti e funghi questi malissi questo si può lasciare tranquilli vedi 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 che qualcosa c'è non è il fungo più bello del mondo perché questo è da seccare ma lo prendo perché a te l'orligarbonato da fa secchi e può da utilizzare in qualche impasto tipo gnocchi buonissimi ecco l'altro bellino vediamo chi lo vede dai l'avete visto eccolo là un estatino ragazzi pensavo fosse un estatino ma invece è un piccolo edulis ma te badà che fungo brutto questo qui è proprio brutto non ti offendere il posticino ma il primo osso di questo posto vi è tra l'altro un covizio vinco dalle mie parti si dice non so come si dice tecnicamente lo lascio vede tutto mezzo dicevo sono passato io perché ho visto che le statine ce n'erano il problema è che vada il funghi vada vada belli per carità ma insomma io le volevo un po' più giovani e queste qui le secco e basta mezzo mangiato mezzo mangiato questo qui scusate il tempo ragazzi ma vada questo però dà se il cammere ma diavola dai tardi madonna badate il fungo vada vada bello diavolo bello di avoro ma bello così vada vada fiscato questi fuochi vada 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 Grazie a tutti